Bella raga, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a giocare per la prima volta con EA Sport VRC nuovo. Il gioco è uscito praticamente da 15 giorni, io ho già giocato un pochino e devo dire che è veramente, veramente bello, divertentissimo e ormai sto giocando sempre a questo perché ha un ritorno sul volante che è stupendo. Poi con il setup che mi sono fatto della Fanatec, col freno a mano e con il cambio sequenziale è veramente una figata. Secondo me tra tutti i VRC questo qua è quello fatto veramente meglio di tutti. E quindi niente, dai, andiamo a fare una partitina, apriamo EA Sport VRC, ci guardiamo l'intro. EA Sport, it's in the game. Beh, EA Sport non delude mai. Già solo da l'intro, è stupendo. Andiamo un attimo, se lo facciamo aprire. Wow, allora a mio parere la macchina più bella del gioco è questa. La Ford Puma della Red Bull è stupenda, veramente bellissimo, ne arriverei a stupenda. Però da giocare io l'ho provata ma è troppo goffa, troppo pesante come macchina. E infatti utilizzerò la Yaris perché passo avanti, è agilissima, la Yaris GR è veramente un'altra macchina. Eccoci qua. Allora, io siccome ho già aperto il gioco, mi sono già configurato il mio avatar, potete scegliere tra varie configurazioni come tutti i giochi, quindi uno Formula 1, diciamo lavare la faccia, i loro figli, visionomia, poi potete scegliere la tuta, i colori, i colori del casco, il cappellino, scarpe, guanti, un po' tutto, ecco. Però diciamo che con dietro questa macchina qua è stupenda, veramente, guardate come è fatta bene, è veramente, veramente. Andiamo a fare una prova a tempo e andiamo a giocare con questo, sulla Bonnet de Juvier Col de Tourigny, quindi, un figuro a prova a tempo, facciamo Rally di Monte Carlo, la Bonnet Vesubier Col de Tourigny, che è la iconica, diciamo, la tappa iconica, condizioni di asciutto, come potete vedere potete scegliere tra tantissime, tantissime macchine, abbiamo le VRC, VRC2, le FIA Junior VRC, Rally 1, Rally 2, Rally 4, le S2000, S16, ci sono le World Rally Car dal 99 al 2011, cioè ce ne sono veramente tantissime, c'è l'imbarazzo della scelta. Come vi ho detto, io andrò a giocare, ad utilizzare la GR Yaris, perché secondo me è la macchina più completa, più agile e quella che va un po' più forte. Come vedete questa però rimane la mia preferita. Ok, allora, scendiamo la macchina, eccoci qua, andiamo avanti, e ci porta nel parco chiuso, ecco qua, guardate che spettacolo gli interni della macchina, del cofano, è veramente veramente fatta bene. Allora, andiamo su preparazione del veicolo, su assetto, che io ne ho già fatto uno, e quindi mi farò una configurazione, carico l'assetto, perfetto, come potete vedere c'è assetto, quindi campanatura e convergenza, abbiamo la frenata, quindi diciamo rapporto di frenata più sull'anteriore e sul posteriore, potenza del freno, potenza del freno a mano, poi andiamo a regolare i differenziali come lavorano l'anteriore, il centrale e il posteriore, le marce, quindi possiamo aumentare o diminuire i vari rapporti marcia per marcia, ammortizzatori, possiamo lavorare su estensione e compressione alta, bassa velocità, molle, altezza da terra e anche sul rollio della macchina, sul beccheggio, quindi torniamo indietro, poi facciamo preparazione del veicolo, propulsione, e qua abbiamo tre profili, abbiamo il profilo, prudente, bilanciato, aggressivo, noi andiamo su aggressivo, conferma, e via. Guardate che spettacolo, adesso faremo la prova, tranquilli, senza rischiare troppo, però vi faccio capire un po' come è il gioco, 4, 3, 2, 1, via, ritardo a destra 4, dopo incrocio, e sinistra 5, 30, sinistra 5, no tagliare, ritardo a tornante destro, 40, destra 6, 30, anticipa sinistra 5, apre 1, 60, destra 3, chiusura media, 30, destra 6, e sinistra 6, 80, accenno destra, accenno sinistra, in destra 6, 50, corta, sinistra 4, destra 4, e destra 4, 80, sinistra 1, media, 70, sinistra 6, e accenno destra, chiude 3, e sinistra 3, chiude 30, sinistra 6, ritardo a destra 4, chiude 10, e sinistra 4, corta, in destra 3, corta, in sinistra 6, ritardo in destra 1, e sinistra 3, 100, sinistra 3, corta, in destra 3, media, destra 6, media, frena, in sinistra 1, media, 40, destra 5, chiude, in sinistra 3, media, 60, destra 4, 40, destra 5, corta, in accenno sinistra, 100, rallenta, accenno destra, in sinistra 5, brusca, in destra 2, attenzione, in sinistra 1, brusca, in destra 2, in sinistra 4, tieni, in accenno destra, 40, destra 1, 30, sinistra 3, 40, sinistra 3, corta, in destra 6, 50, rallenta, sinistra 6, chiude, lunga, in destra 2, apre, poi chiude, in sinistra 2, media, tieni, in destra 6, 120, destra 4, corta, 60, rallenta, sinistra 5, in destra 3, apre, in sinistra 5, 40, ritarda, tornante sinistro, sale, in destra 3, 30, sinistra 2, apre, tieni, in destra 3, chiude, in destra 2, ritarda, in sinistra 4, media, 40, assenno destra, rallenta, 50, tornante destro, non tagliare, in sinistra 3, 40, destra 4, brusca, ritarda, sinistra 2, e destra 3, media, chiude, in sinistra 3, corta, 60, tornante sinistro, 30, destra 4, tieni, in sinistra 4, chiusura, media, frena, 30, tornante destro, 60, destra 6, chiude, 4, in sinistra 1, corta, 80, sinistra 4, corta, in destra 6, 40, accendo sinistra, ritarda, destra 3, in sinistra 4, brusca, in destra 6, 120, destra 1, lunga, apre, 30, sinistra 6, 40, sinistra 1, corta, in destra 3, di accenno sinistra, 90, sinistra 6, brusca, in accenno destra, in sinistra 3, apre, 6, 100, accenno sinistra, in destra 6, corta, 70, sinistra 6, 50, destra 4, 30, tornante sinistro, e accenno destra, in sinistra 5, corta, 30, destra 6, 140, rallenta, accenno sinistra, ritarda, tornante destro, apre, e sinistra 6, 110, accenno sinistra, 30, destra 6, 40, sinistra 4, corta, 40, destra 6, 130, rallenta, destra 1, media, 50, accenno sinistra, non tagliare, 60, sinistra 4, corta, frena, destra 1, corta, e sinistra 2, e destra 6, e sinistra 5, corta, e destra 4, chiude, e sinistra 3, chiude 1, e destra 6, 200, frena, e danno tornante sinistro, apre, e destra 6, 70, rallenta, accenno destra, sinistra 6, e tornante destro, non tagliare, 40, sinistra 6, 100, sinistra 3, corta, 80, ritarda, destra 3, chiude, e sinistra 1, 90, destra 1, 60, accenno destra, e sinistra 1, e destra 3, non tagliare, e sinistra 1, corta, 40, destra 4, 40, frena, sinistra 6, chiude 3, 130, 30, accenno destra, 100, sinistra 4, corta, 40, sinistra 3, lunga, 80, sinistra 3, corta, 100, attenzione, sinistra 6, chiude 4, non tagliare, ritarda in destra 1, lunga, e accenno destra, lunga, lunga, 60, ritarda, sinistra 3, tieni, 50, destra 3, media, 100, accenno sinistra, 100, sinistra 5, media, 40, sinistra 2, brusca, 110, destra 2, e sinistra 2, corta, e destra 1, 30, sinistra 2, apre, 30, ritarda, destra 1, lunga, 30, sinistra 2, media, 80, frena, accenno destra, chiude 1, media, sinistra 2, e chiusura media, e destra 1, media, e sinistra 5, 80, rallenta, sinistra 1, apre, 50, destra 2, chiude, non tagliare, 60, sinistra 5, lunga, lunga, 80, destra 2, 40, destra 1, e sinistra 6, e sinistra 6, rallenta, 40, sinistra 1, media, 40, sinistra 4, brusca, 30, frena, accenno destra, chiude 2, non tagliare, e sinistra 2, 30, destra 6, media, chiude 2, e sinistra 4, 80, destra 4, sudosso, pieni, 50, su arrivo, destra 2, all'arrivo, ok, tempo di 8 minuti, 22,4, mamma mia, da sudare, bello, 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 comunque, allora, rispetto al mio best, ci ho messo 9 secondi in più, pensate voi, però, però, dai, mi sono divertito, ho cercato di stare, come, diciamo, in sicurezza, e via, spero che vi sia piaciuto, continuate a seguirmi per altri contenuti del genere, bella?